Ciao a tutti, da oggi riprendo a pubblicare le recensioni sul mio canale alla piccola biblioteca di montagna. Questo canale presto cambierà nome, anche se mi spiace un po', ma voglio in qualche modo unirlo con l'altro canale, perché averne due è veramente assurdo, non riesco a gestirli. Ricomincerò parlandovi di gialli, ma non solo. Iscrivetevi, ecco la prima cosa che dovevo dirla per prima, invece me ne sono dimenticata come al solito. Iscrivetevi per favore, sotto c'è la possibilità di farlo e ho bisogno che vi iscriviate perché mi aiuta con queste recensioni. Le ho interrotte quest'estate a seguito di problemi che non si sono per niente risolti, però insomma è ora che io riprenda a vivere normalmente per quanto possibile. Quindi ci tenevo, avevo questo progetto e voglio assolutamente portarlo avanti. E' appena uscito, sempre per Inaudi, il nuovo libro della serie dell'ispettore Gamasce, da lì riprendiamo. Non me ne parlo perché me lo sono fatto mettere sotto l'albero e quindi fino a dopo Natale non lo leggerò, lo leggerò sicuramente tutto di fiato. In realtà l'ho già letto in parte in inglese, però chiaramente non conosco l'inglese così bene da averne goduto appieno come ne godrò in lingua italiana. Dopo vi farò la recensione. Colgo l'occasione anche per dirvi a chi è interessato che sul canale 38 per noi, qua in Piemonte, che si chiama Giallo, da domani sera, cioè giovedì 14 alle 21.10, inizia in italiano la serie dell'ispettore Gamasce. E' liberamente tratta dai romanzi, non è che ogni puntata corrisponda a un romanzo, anzi la prima tratta, io l'ho vista in francese, tratta del primo romanzo, unisce praticamente il primo e il secondo romanzo. Il primo era Natura morta, il secondo è La grazia dell'inverno. Non vi dico niente perché nel caso la guardaste così potete godervela pienamente. Domenica, vorrei, alle 3, alle 15, verrà pubblicato un altro video in cui invece farò una recensione di un romanzo di P.D. James, che è una scrittrice inglese, un'autrice che io amo, ho amato tantissimo, scomparsa di recente, e i suoi gialli sono molto molto godibili a mio parere. Su questo canale non vi parlerò solo di gialli, ma mi devo organizzare tutto quello che avrei dovuto fare quest'estate. Cercherò di farlo adesso anche usando le vacanze di Natale. E subito dopo le vacanze di Natale vi farò una recensione che sicuramente vi stupirà. Per il momento vi ringrazio, vi ringrazio di essere qua, vi ringrazio di ascoltarvi, vi ringrazio tutti quelli che mi hanno scritto che gli mancavano le mie recensioni, che amavano questo canale che aveva appena iniziato a pubblicare. Spero che riprendiate con, insomma, che accogliate con gioia la ripresa di queste recensioni. Vi mando un grande abbraccio a tutti, a domenica, con appunto la recensione di un giallo di PDJ, questo che sentite in sottofondo nel Maltesino. E a presto, iscrivetevi, grazie, un abbraccio. Grazie. Grazie.